dall'alto della sua classifica la germani brescia ospita in questo pomeriggio della serie a unipolsai undicesima giornata il banco di sardegna sassari della valle per gabriella si alza anche lui dalla distanza gravissimo cappelletti a soffiaglielo dalla mano e poi il canestro di mckinney petruccelli dall'angolo questo è un assist splendido di petruccelli reier non li lascia spazio poi petruccelli finta anche lui e la valle allora si alza da lontanissimo altri tre punti dall'altra parte l'alzata per la schiacciata stavolta ben riuscita andare fino in fondo poi pasticcia la perde allora cuono sulla contropiede di brescia arriva bornella intercettata col piede però involontariamente l'altra parte kenny gabriella non aspetta parte della valle di mano sinistra si ferma la pinta alza la parabola e trova altri due punti e medio della valle non è per milano fuori parla massimo che parte poi scarica fuori per cuono boomerang ancora per massimo Gruslin parte, poi va a tirare in sottomano, trova un buon canestro dietro la schiena, Christon fuori per Gabriel che si alza da tre! Per questi due secondi che rimangono da giocare, Christon si alza da casa sua e segna! Lo stiamo facendo bene, è indubbio, siamo quasi più trenta nel primo tempo, stiamo facendo tutto bene! Vilan a spalle a canestro, semigancio! Christon il lobo per Gabriel e la acrobazia, Kenny Gabriel Si alza dalla distanza, John Petrucelli Per la Popolos si alza per il tiro da tre, va versando Intercettato il suo pallone, si va dall'altra parte con Grusin che spinge per Trajer che vado a portare in sottomano Trajer conquista un buon pallone, spinge verso Gruslin che riesce a recuperarlo, poi parte in uno contro uno Gruslin Molto bravo! Se questi signori in maglia blu continuano con queste percentuali c'è veramente ben poco da fare Poi vedete come i giocatori di Brescia stanno per recuperare un altro pallone, Gruslin da terra è bravo, poi per la schiacciata di Bertini Achele, svitamento sul piede perno, stoppatona di gombol Dall'altra parte Raspino per Gruslin, sotto mano per Gruslin Dopo tre tentativi da due punti dall'altra parte, non ce la fa McKinney A fermare Barnelle che poi va anche a schiacciare Pinta il tiro, poi il pallone schiacciato a terra per Achele Un bel passaggio, allora Messi si alza da casa sua Intensità, ripeto, come se fossimo ancora inizio partita Poi Porto C'è gloria anche per il giovanissimo Brescia vince 110 a 65 110 a 65 Vincere! Abbiamo messo in un po' di lavoro difficoltà Siamo iniziati e facciamo tutti i giorni E vogliamo solo essere pronti per giocare